Cosa è successo al cambio euro-dollaro? Beh, la risposta può essere banale da un punto di vista grafico. Abbiamo avuto nelle ultime sedute una fortissima esplosione di volatilità riazzista. Siamo infatti passati da area 1,25 ad un massimo nei pressi di area 1,46. In questo video vogliamo fare un commento su questo cambio analizzando un'operazione che abbiamo proposto all'interno della rubrica Forex. Dopo il massimo di area 1,6 registrato nella scorsa estate, il cambio euro-dollaro ha subito una netta discesa, una discesa caratterizzata da massimi e minimi decrescenti che ha portato alla formazione di un minimo, esattamente il 28 di ottobre, in area 1,23 e 28. Dopo la formazione di questo minimo vi è stato un movimento di lateralità ampio sia nello spazio che nel tempo, un movimento tra area 1,23 e area 1,3, un movimento che è durato dunque dal 27 al 28 di ottobre fino al 5 di dicembre. Noi all'interno della rubrica abbiamo consigliato di non prendere posizioni, dunque di restare flat in quest'area di lateralità, proprio perché non vi erano a nostro avviso le condizioni operative per poter sfruttare un'operatività di tipo long o di tipo short in base a movimenti di tipo direzionale. Abbiamo però invece consigliato di prendere posizioni rialzista alla rottura di questa trendline, alla rottura della trendline che vedete qui tracciata che è la trendline più interna, quindi una trendline che passa dal massimo del 23 settembre e dal massimo del 25 novembre. La violazione di questo livello dinamico di resistenza ha portato ad un movimento direzionale fino alla successiva resistenza del canale di lateralità nei pressi di area 1,3, la successiva rottura del livello statico di area 1,33 e del livello dinamico che è rappresentato dalla trendline passante dal massimo assoluto di area 1,6 e dal massimo sempre di settembre e la violazione anche di questo livello dinamico ha portato ad un movimento successivo molto direzionale, ad una fortissima esplosione che in sole quattro sedute ha portato le quotazioni nei pressi di area 1,46. In blu osservate i livelli di resistenza, livelli in cui è plausibile che ci possa essere un punto di arresto di questo cambio, tali livelli sono stati costruiti mano a mano che il cambio euro-dollaro è sceso nei mesi precedenti, quindi sono livelli tracciati da molto tempo. Chiaramente ogni operatore in base al proprio stile operativo, al proprio capitale e soprattutto in base alla propria dosi di rischio può gestire al meglio, o ha potuto gestire al meglio questa operazione e quindi sfruttare il movimento direzionale che si è venuto a creare. Abbiamo comunque consigliato per tutti di chiudere la posizione alla violazione ribassista di area 1,4. Perché abbiamo preso posizione tra il 5 e l'8 di dicembre? La risposta è semplice, perché abbiamo avuto un'indicazione sui prezzi, quindi abbiamo avuto un'indicazione basata su un'analisi svolta di tipo grafico, un'analisi grafica di supporti e resistenze, ed inoltre avevamo anche le conferme degli indicatori. Gli indicatori in questa situazione avevano in realtà confermato in anticipo l'eventuale movimento rialzista. Ad ogni modo era prematuro prendere posizione in anticipo, perché non vi erano le indicazioni dei prezzi. Quindi è molto importante che prima di tutto vi sia un'analisi dei prezzi. I prezzi comandano sempre. Se dopo vi sono le conferme anche degli indicatori, è opportuno allora prendere posizione. Osserviamo infatti il SAR, ad esempio, stop e reverse. Bene, il SAR ha svoltato il rialzo il 25 di novembre, però dopo aver svoltato il rialzo, come possiamo osservare, il cambio euro dollaro ha avuto un tentennamento, quindi ha testato la trend line, cioè o meglio ha formato il massimo da cui noi abbiamo attrecciato la trend line, è sceso per poi ripartire. Il MACD ha rotto il rialzo molto prima, il 4 di novembre, su questo livello. Ad ogni modo, come possiamo osservare, il cambio euro dollaro ha avuto un successivo mese di forte lateralità. Stessa cosa per quanto riguarda l'indicatore RSI. Quindi la cosa importante che vogliamo sottolineare è proprio questa. Anzitutto si fa un'analisi dei prezzi e successivamente si fa un'analisi degli indicatori. Qualora le due cose combacino, allora possiamo prendere posizione. Non dobbiamo assolutamente spaventarci se restiamo fuori dal mercato. Se restiamo flat è chiaramente una strategia operativa, una strategia che può ripagare nel momento in cui si viene a formare un movimento direzionale, come quello che abbiamo potuto osservare sul cambio euro dollaro.